diciamo sempre le stesse cose e pensiamo sempre le stesse cose sempre le stesse cose bravissimo diciamo un attimo quello che hai detto prima le quarantenne sono le migliori le quarantenne sono le migliori poi diciamo che stanno 15 anni e 60 stanno sempre le 25 anni e va e va e va e va e va e dai papallano donne tra 60 e 90 nel capo del bastone c'è il vostro e il bel bors eeeh eeeh buona c'è ventre che sta a cercare